Primi verdetti nel fine settimana pre-pascuale del volley regionale in cima Schileter su ultima di regular season. Camping Chisolino al Ziora 23-1 al pala a Monbarone di Aquiterme contro Cetip Machimo parziali 20-25, 21-25, 28-26, 12-25 con quinta posizione di classifica raggiunta con crescita notevole e salvezza matematica obiettivamente mai in discussione. Studi immobiliari vicino a Domodossola cade in trasferta contro Stamperia e Alicesa-Santià, set chiusi 25-9, 27-25, 25-17 e finale sul 3-0. Per gli ossolani la retrocessione non è ancora matematica ma per arrivare ai play-out serve fare sei punti nelle ultime due gare, sperare che le dirette concorrenti ne facciano meno possibile e anche che dalla Serie B non retrocedano squadre piemontesi ma attualmente sono due le formazioni del Piemonte a rischio, una delle quali lontana dalla zona salvezza, situazione obiettivamente complicata. La Icarona nulla ha potuto contro Ilario Ormezano-Biella tra le mura amiche, la capolista chiude 1-3 con parziali 25-15, 15-25, 20-25, 15-25 e col successo di Chieri a Vercelli i play-off adesso sono davvero lontani. In C femminile lo scontro diretto del Palamanzini tra Vox Rosalziora e Airo Tetti-Issa Novara sorride alla formazione di Fabrizio Valzano che allunga a 10 il filotto di vittorie consecutive. È finita 3-1 con parziali 21-25, 25-19, 25-16, 25-18 che sorridono alle lacuali. Con questo risultato la squadra del presidente Carlo Zanoli allunga 13 punti di vantaggio sulla quarta e con quattro partite da giocare rende matematica la qualificazione ai play-off per il secondo anno di fila. Samba Borgo ha vinto in casa contro Cantina Rasore Ovada, finale con i set terminati 25-23, 25-16, 25-17 per il 3-0 conclusivo che riporta la squadra di Conti a metà classifica. Pavic Romagnano invece ha perso contro la corazzata Alessandria al Palas Ganzetta e torna in zona play-out. Finale 1-3 con i set refertati sul 17-25, 13-25, 25-22, 18-25. Invece la Serie D femminile vede l'ennesima vittoria di Sara Pallavolomegna che ha festeggiato contro vive energia Scurato Novara. Finale sul 3-1, parziali 25-19, 25-22, 13-25, 25-20. La formazione verde-viola ha sei punti di vantaggio sulla terza e dunque per conclamare i play-off serve un solo punto nelle ultime due giornate.